Giù le mani dalla polizia penitenziaria chiediamo più tutele e dignità uniti verso il cambiamento. Sono le richieste dei sindacati che hanno indetto una manifestazione pacifica davanti alla casa circondariale di Villa Fastigi. Violenze fisiche, verbali, doppi turni, ma anche pochi strumenti per la difesa personale e strutture fatiscenti. Dopo l'ennesima aggressione subita da un poliziotto nel carcere pesarese è stato organizzato il sit-in per lanciare un messaggio di solidarietà ai colleghi indagati per i reati di tortura negli istituti penitenziari d'Italia, come in quello di Santa Maria Capoavetere nel Casertano, dove sei agenti sono rimasti feriti a causa di una rivolta dei detenuti. Siamo partiti dal 3 giugno proclamando lo stato di agitazione del personale pesarese associato all'assenzione della mensa. Quella di oggi non è l'apice della protesta, ma è solo una tappa, perché le promesse non ci bastano. Le promesse ci hanno portato qui oggi. Adesso vogliamo dei cambiamenti concreti. Ci definiscono l'ultima ruota del carro, ha raccontato l'assistente penitenziario, e noi vogliamo dire a chi lo guida che se si rompono le ruote il carro si ferma. Basta all'impunità di chi aggredisce coloro che indossano la divisa, basta a chi non permette agli agenti di organizzarsi una vita privata. Siamo persone e non numeri. Il problema è anche il rapporto numerico, è anche la normativa. Chi si assumerebbe la responsabilità di utilizzare tali strumenti, con la paura dietro l'angolo di essere poi indagati per il reato di tortura? Non basta solamente dotare la polizia penitenziaria di strumenti. Dietro ci deve essere una norma che tutela chi poi opera con determinati strumenti. Siamo nel 2020, è una vergogna che si vadano a ricercare ancora cellulari a tastoni nelle camere di pernottamento. Ci sono i jammer, è una strumentazione capace di inibire il segnale GPS dei telefonini. Basterebbe questo, un piccolo investimento per risolvere tanti tanti problemi. Se ci fossero stati già i jammer, probabilmente queste rivolte degli ultimi mesi non sarebbero state così perfettamente coordinate. Perché nessuno ci fa caso a questa cosa qua? Perché noi siamo impegnati quotidianamente nei reparti detentivi e quindi possiamo avere più contezza della realtà. Benissimo, allora venite a informarvi da noi, ve lo diciamo noi come si salva la polizia penitenziaria. Abbiamo letto le proposte di dotarci di taser o bombolette al peperoncino ma non sono sufficienti, ci spiega Scognamiglio. Il rapporto tra agenti e detenuti è infatti 1 a 50. Inoltre viene richiesta sia più meritocrazia che una ristrutturazione della caserma pesarese. Ad oggi, hanno precisato i sindacati, non abbiamo ottenuto risposta. Dall'emergenza Covid in poi, praticamente vede aggressioni verbali, minacce, tutti i giorni nei confronti dei colleghi che a stento riescono a lavorare all'interno delle sezioni. Sono costretti a subire insulti, sputi e questo non è più possibile. Non è più tollerabile, le aggressioni ci sono anche fisiche, colleghi che vanno al pronto soccorso e non riescono a finire il turno. E questo non è più tollerabile. Noi portiamo una divisa, indossiamo una divisa, rappresentiamo lo Stato e la direzione e i superiori uffici ci devono tutelare. A sostegno della Polizia Penitenziaria di Pesaro anche il sindacato autonomo Sappe, che denuncia le problematiche da oltre due anni, una battaglia che continua. I poliziotti penitenziari, solo per fare un esempio a chi non conosce l'argomento, sono costretti a operare in sezioni detentive con 100-150 detenuti a mani nude. Il Polizia Penitenziario non c'ha né manganello, non c'ha né sprite, non c'ha né telelasere, non c'ha niente. E questo lo si è visto anche nelle rivolte. Noi siamo costretti ad affrontare 400-500 detenuti a mani nude per ripristinare l'ordine della sicurezza degli istituti e oggi veniamo accusati di tortura per quei fatti. Questa è l'assurdità e l'incapacità dell'amministrazione penitenziaria di gestire le carceri italiane.